Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere l'ipnosi, soluzione l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore del Belgio che mi scrive testualmente, dottore come faccio a far capire ad una persona molto amica e che promette e non mantiene, promette, 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 dice sempre sì, sì, sì e poi manca certo, punta sicuro e manca certo. Io gli ho risposto che è un problema subconscio, quella persona non si diverte a fare così, è più forte di lei e naturalmente stare lì a ripetergli dal punto di vista della volontà che sta sbagliando non serve a nulla. E' come quando il genitore ripete miliardi di volte al figlio che deve essere educato e suda sette camicie prima di convincerlo, se lo convince. Perché? Perché parla alla parte sbagliata della sua mente, cioè alla coscienza, alla volontà, alla critica, alla logica. Ora perché tu aiuti chi promette e non mantiene, bisogna che tu parli la lingua del subconscio, o da solo o utilizzando l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo. Anche iniziando con un solo audio mp3 di CS, perché queste persone nel loro subcosciente sono intrise di immagini di passato negativo che le porta a dire spesso e volentieri Sì, domani lo faccio, dopodomani ci riesco, vai tranquillo, ti sposti quel mese, quell'altro mese, compagnia bella, poi sistematicamente mancano alle loro promesse. Perché? Perché la forza più forte di loro, della loro volontà, l'immaginazione, chiamola subconscia, porta dalla sera alla mattina a cambiare quello che hanno promesso. E che cosa succede? Che non mantengono la propria promessa. Ti posso garantire che più frequente di quanto non pensi, gente che promette in amore, sul lavoro, in qualsiasi ambito, ha questo modo di fare che indispettisce. Molte volte nascono anche litigi, dispute, che non hanno un significato, se rifletti. Perché se conosci quella persona, ad esempio sul lavoro, che promette e poi non mantiene, ma perché continui a chiamarla, perché continui ad affidarti a questo professionista poco serio. Perché? Perché? Perché io mi riferisco molte volte a categorie come idraulici, elettricisti, muratori, poco serie, la vostra grande maggioranza è seria. Ma ci sono queste persone che promettono e poi non mantengono. Infatti in questi email di questo signore, del Belgio, mi scrive anche che fa questo lavoro, chi promette e non mantiene. Ed è un amico di famiglia, molto stretto. Cosa posso fare? Perché fa così? Che cosa vuol dire? Perché a livello subconscio si comportano in questo modo? Il punto è che nel loro passato c'era una figura autoritaria come la mamma o il papà o il terzo genitore, vale a dire la televisione, che è entrata e ha messo radici nel proprio subcosciente, nel proprio pilota automatico, in quella parte della tua mente, dove tutto si realizza severamente prende radice, come le radici di una pianta. Ecco come funzioniamo noi, che chi ne dica qualche guru, qualche prof, bla bla, che parlano di teoria, 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 e poi in pratica non riescono a spiegare come funziona la mente dell'essere umano. Libriosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo è la chiave per aprire le porte del tuo regno subconscio e seminare tanti semi positivi che ti daranno felicità, gioia, successo, salute, benessere a 360 gradi. Chi più ne ha più ne metta. E' logico che devi seguire alla lettera le istruzioni molto facili, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro e meravigliarti del potere della tua mente, d'accordo? Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto fare, fare azione e meravigliarti del tuo pilota automatico. Perché molta gente si arrende perché non ha tempo, perché è pigra di base e anche qui è una pigrizia subcosciente che si può eliminare. Però il metodo di CS vera e professionale alla V maiuscola elimina tutti questi limiti perché non considera il tempo nel calendario e nell'orologio. Devi soltanto seguire le istruzioni molto facili alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro e ti meraviglierai. Aspetto le tue domande, questioni, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino. Grazie. Grazie a tutti.